Si ripartirà con un calcio ad angolo, occhio al corner, azione che sfuma Mauri Occhio cerca l'area di rigore, prova dalla distanza, una botta pazzesca La conclusione Davvero imparabile Ho la sensazione che lo rivedremo spesso durante la stagione, un gol perfetto per le clip Giornata da ricordare per questo attaccante, hat-trick, tripletta per lui